allora siamo siamo in studio dove faremo delle chitarre vedi allora questi qui è la roba di salvatore caffiello qui ci sono dei pedali miei e poi max deve montare tutto quello che non so se si vede perché io sto facendo vedere poi max adesso sta facendo il live che abbiamo fatto a casa mia lo sta sistemando io però siamo in studio per un altro motivo e in questi giorni come me potreste fare anche delle immaginare comunque questa è una prima cosa poi dopo devo passare dal liuttaio sistemare da giovedì devo andare a fare basso e batteria di un pezzo poi dopo torno in studio facciamo le chitarre quindi venerdì giro il video dell'amore che non sai che dovrebbe uscire venerdì in radio e comunque stiamo facendo come dice che qual è che dice stiamo lavorando per voi il metano stiamo lavorando per voi vabbè comunque il concetto è quello lì però come per l'italia ecco